Questo è il teatro della Roma Lido, che è uno dei più vituperati strumenti di trasporto della capitale, di competenza della regione. Secondo noi la competenza dovrebbe passare all'amministrazione capitolina, che così potrebbe seguirla in maniera seria. Credo che Ostia, in particolare il litorale romano, sia una delle tantissime vocazioni non utilizzate da questa città.